FACCIO QUESTO PER NON SPRECARE L'ACQUA Faccio questo per non sprecare l'acqua perché ecologicamente andrà a finire dentro la piscina, giustamente. Vabbè, sono stato nominato da Radiobrea, dai ragazzi di Radiobrea, e quindi eccomi qui. A mia volta devo nominare qualcuno e nomino mia sorella, Elena Perino. Elena, Elena, non c'è, non c'è, sta di là, sto lavando i piatti. Povera, beh la riprenderemo fra poco, potete vedere che c'è il ghiaccio. Vedere scusa? Il ghiaccio si è sciolto un pochino però non ci sta. Si può fare dire che si può procedere. Vai Davide, dai! Bravo! Vabbè! Grazie a tutti